musica 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 ragazzi finalmente è uscito il nuovo vlog per il mio compleanno sono rimasta mega delusa da una cosa ma non ve la spoiler quindi fate swipe up per scoprirlo cosa stai guardando su instagram? no niente amore ti stai guardando qualche tipa? niente 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 fa vedere dai oh ma sono io oh ma... ragazzi Gianmarco Zagato e i Pit hanno fatto uscire un nuovo episodio della loro nuovissima serie e oggi sul canale dei Pit trovate anche una mia apparizione speciale quindi fate swipe up per guardare il loro video e ragazzi forza ragazzi facendo una cosa trascendentale raga sono con voi se li stiamo seguendo dovete vincere voi vai raga non mollate allora ti sta seguendo e sono sicuro che rivedete fino alla fine del gioco ciao ragazzi buongiorno alle 5 e un quarto del pomeriggio faccio questa storia 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 per dirvi che sono viva anche se non ho postato niente per tutta la giornata ho avuto un esame di fisica difficilissimo non si può dire cattivissimo incrociamo le dita preghiamo tutti quanti santi di questo mondo e dell'altro per farmi superare questo esame boh chi lo sa non me la voglio mandare comunque niente oggi io e Ale festeggiamo 10 mesi di fidanzamento quindi andiamo a mangiare il sushi per festeggiare ma prima devo farmi una doccia perché ho i capelli che sono delle steppe degli spaghetti rossi oh che bello guarda di là che bello che sei dobbiamo fare delle foto e c'era una luce fantastica ma è passata una nuvola che non ci permette di fare questa bellissima foto quindi io dico ehi tu stupida nuvola spostati ma sei tu il sole amore stavo per cadere comunque spostati stupida nuvola non hai altro da fare che cavolo puoi fare quello che vuoi amore oh sei in imbarazzo oh anche buon mattino ragazzi come state? vorrei dirvi perché mi sono dimenticata di dirvelo prima che oggi pomeriggio uscirà un versus il primo versus estivo e sarà fantastico vi lascio qua gli indizi così magari potete indovinare di che si tratta e niente sono mega contenta perché tra un po' finalmente andrò in vacanza vado in Sardegna con Ale ci divertiremo un sacco faremo un sacco di vlog e ho fatto anche un acquisto particolare che ora vi mostro per fare dei vlog fantastici vi lascio una foto nella prossima storia ciao ragazzi è uscito finalmente un nuovo video bambini versus adolescenti in estate andate a guardarlo perché c'è anche Billy avete sentito che ci sarà un evento in diretta streaming per festeggiare insieme la double tap ho realizzato una sorpresa insieme a degli amici e ospiti d'eccezione se siete curiosi di sapere cosa abbiamo combinato vi aspettiamo il 23 luglio alle 17 sul canale youtube di TumacTV attenzione attenzione i conti